ahaha acqua guarda c'è sto forziare open pino grazie mille per allenato lo sub come va pino come procede quel gioco ho scoperto cose nuove si sto scoprendo un po di cose anche se ovviamente ci devo fare ancora tanto ma è molto complicato come eccomat system e voglio pia sto cazzo di gatto quindi facciamo un giro da qui caccia lo preso eeeh io fà sto tizio apriamo io piare la località first bus ora 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 Ah! Ah, ci sono sopra! Ops! Come si entra? Come posso inserirlo? Come posso inserirlo? Come, come! We're stuck a pen there! Let me in! no I 100% What can we think? That's the assault on the ice Welcome here on Twitch as well, fraica. Oh, ragà, non sto capendo come entrare. I'm not understanding how to enter this, fuck. I don't care. Oh, I understand, fraica. You know what? I have an idea. Yeah. 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 No. Yeah. 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 Yeah, I'm good. Yeah. Mm-hm... Ops. Ops. Gotcha. Here Enix is planning what you are doing, so we need not to use them. Only from the other side, okay. Here we go. Ta-da! Open. Ciao, good off trophies! Where are you? Here we go. Here we go. Here. Woah. There we go. I'm not sure what I do. Sì, sì, ci sono l'impugnatura, certo. Cioè, beh, ci sono gli stili che non sono propriamente l'impugnatura, ma praticamente sì. Tipo, ma con la katana, cioè, boom, boom. Vieni, fai tipo stroma. Per ora ho solo due, devo sbloccare il terzo stile. Vieni, fai tipo stroma. No! C'è il gatto, me lo stavo perdendo. Upsi, ho scoperto il gatto. È un lato... Sì, esatto. È il stesso periodo che il famoso film The Last Samurai con Tom Cruise. È il periodo della storia di storia di Japan. Allora, let's go here. Oh, no. Vero, è una figata il deltaplano, sì. Un po' Genshin Impact and Zelda, ma sti cazzi ci sta. It could be a young Joyabusa. No, it's too early, but maybe the father of Joyabusa could be. non-baccom. Grazie a tutti. Sì, 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 è tantissimo Ghost of Tsushima, l'abbiamo ancora visto già con anche un po' il contesto. Pertica è Ghost of Tsushima con il gameplay di un mix tra Nioh, Ninja Gaiden, Wulong e un pochetto di Stranger anche. E altre cose. Muramasa è mortale, è una legenda. Da. Oh no! Qui sta cattando? Qui sta cattando? grazie per il follo Cadillac grazie per il follo italiano benvenuto, benvenuto and then let's go to the secondaire boss oh, the cell phone is already si, tipico dama, tipo le volpi Ghost of Tsushima, si oh, I'm dead ripulsi oh, I'm dead oh, I'm dead è una genostina oh, I'm dead 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 Grazie a tutti. No, non c'è tra un cazzo con Sekiro. Dire che è Sekiro e insultare la profondità e la complessità del combat system di questo gioco, no, no, fidati di God of Trophies. Non scherziamo? Tendi luce avanti rispetto a Sekiro. Può essere. Anche se dire più che visivamente sembra God of Tsushima che è Sekiro. Sì. 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 non ricordo che di capo no 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 chill no rip 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 Come here! Oh, chill! Fuck you! Boom! Let's go! Oh, I understand! Ok, I think we are done. We can keep going with the story. Ok, let's save! I don't know. What kept you? If you know what it is. Oh, nice! Nice! No, really? If you have specific dad, do you know? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. There was a trophy for this. At least one picture. It's still a ninja mask. I'm so sad. 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 Emma. I'm so sad. I'm so sad. I'm so sad. Sì, ciao Dani. Ho messo la ninja cam, sì. I owe you. Those nitwits, they think cameras are some kind of weapon. I'd like to give you a demonstration, but I'm afraid my camera is broken. It means I can't have a living. How is it, Igashichi? Got it working again? I'm afraid not. Without the schematic, I'm at the end of my rope. Curse those dumped thieves. Are you serious? This isn't good. Those thags have no idea of the value of what they've stolen. But I can hardly just go and ask for them back. Wait. Is that my glider prototype you have there? You managed to get it back from those thieves. Most impressive. Could it work? I don't know. But it might. I can see it all in my head. The perfect plan. I need those schematics back. And if you help me, I'll give you a camera. Sound good? Okay. Good. A clear and rational response. You must have the inventor's spirit. Those thieves have a base in the mightre castle ruins. But we can't just scroll straight in. Head to the temple hall nearby. Oh, dear. I forgot to introduce myself. My name is Igashichi Izuka. Back home in Hitachi, I'm known as Igashichi the Tinkerer. Well, I shall see you there. Dear me. He seems inspired up once again. Well, please do what you can to help him. Winter is a Kalau bar, that's a Wentworth to catch each other. Ninja Kamu has tried HP as well, thank you. dwarven by glass is a traitor always. italian pretrenington, they have been tacy in which we are방s of trouble. If you want to cut myself up there's aife, this is a граф. Ultimately, this is the opposite of bevor you are sold. Perchè no? Perchè no? E qua Perchè non ho tornato È un altro Perchè Perchè Il retro Il retro L'estelto Perchè Il retro Il retro Il retro Noi Non Regierung E' un retro Nonostante Grazie a tutti. Ok, una bella treasure. Come cazzo ce l'arrivo? 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 Ahha! Open! Come cazzo ce l'arrivo? Come cazzo ce l'arrivo? Come cazzo ce l'arrivo? Come cazzo ce l'arrivo? Rip 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 di stiragliabusa, mannaggia vai da casa fuck you cat niente, è scappato vediamo dove sta mandando ma teoricamente in realtà dovrei già averlo da un pezzo cioè tipo Toto l'ha trovato appena avuto il coso appena avuto la possibilità appena avuto il guardaroba ok, fatto però c'è una pulita zona che cazzo è l'obiettivo della missione qua dice no mi manda qui e mi manda qui troppe secondarie dove si va? andiamo prima qua va anche da livello quattro chi l'ha dell'axo potrà più ah ok però si può trovare comunque dici beh dai ci sta cazzo basta che si possa avere o prima o dopo basta che si possa avere certo a me quello ho intresso nabu naga cat vediamo se vediamo se vediamo se vediamo se mi ha l'ea mi haει una palla Ehm, eri ok? Of course. I must change the posture of my character He don't run the same of yours Oh really? I'm going to calm down Believe me Ops Grazie per salvare Questa è in marcia, ma voglio che la prenderla Grazie Qui non ci sono andato però, vabbè poi ci vado Secondo posto in editor ha le mani aperte e corre come se fosse mangiato Ma davvero? Ma che cazzo Wow Io manco ci ho fatto caso, comunque la puoi cambiare in qualunque momento Vai alla capanna e la cambia, ah no, mancuno l'hai sbloccata te la capanna Rip cavallo, no invece il cavallo sta bene Ops Il camera Il camera E ancora non ho liberato la zona iniziale, mi sono messo a giro in zona E' esattamente quello che sto facendo anch'io, si si Adesso ho finito di liberare, adesso mi sono messo ad andare un po' avanti con la storia Però si anch'io mi hanno messo a giro a fare tutte le cose Oh 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 I'm getting lost on this cave I'm getting lost I'm getting lost Sì, i teia sono davvero i propri miniboss, sei una figata Adoro anch'io sta cosa, sono divertentissimi Anche solo il giranzolare e combattere è divertentissimo, davvero Si è buttato di sotto, e ne approfitto per lottare Ok Ancora con lo scudo mi sta sul cazzo Andiamo Ancora con lo scudo mi sta sul cazzo Dodging like this Ciao Alexius Grazie mille Alexius Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Ciao Come and see me at Yokohama Grand Villa? You'll be generously remunerated, I assure you. I really am telling you the truth, you know. They were adopting about you. Good. Then I await your visit. Okay. Let's go. Uh, I'm going to get a fire. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, Elena. Let's go. Let's go. Let's go.